E' stata un'edizione da record quella della fiera antiquaria trasferita al Prato per la consueta edizione di settembre, tra l'altro baciata anche dal sole. Grandi numeri per i titolari di posto fisso, ma è stata presenza a record anche tra gli spuntisti e tra gli antiquari in sede fissa, arrivati a 15, ai quali era dedicata una precisa area del Prato lungo il viale che porta alla Fortezza Medicea e che hanno deciso di trasferire la loro merce preziosa dal negozio al banco in fiera. Tantissimi i visitatori, tra cui molti gruppi organizzati provenienti da tutta Europa, richiamati al Prato anche dalla recente riapertura della Fortezza Medicea. E l'assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Marcello Comanducci lancia la sua personale disfida alle finte fiere. Vogliamo cercare di attaccare tutte le fiere che si travestono da mercatini, quindi non hanno nessuna regola, non chiedono DURC, licenza, non chiedono niente, ma poi invece espongono prodotti di antiquariato, gli stessi nostri, anche perché molti degli nostri antiquari poi vanno anche in queste manifestazioni. Quindi non è corretto se vogliono vendere antiquariato, se mettono in regola come noi o se vogliono fare mercatini, vendano veramente prodotti di casa.